Ciao a tutti ragazzi, io sono Ale, io sono Ghidius, io sono Pino e due teschietto. Sali sull'edificio con voi, sali sull'edificio, devi correre, corri capretta, corri dall'altra parte, non di lì, non di lì, ma non hai detto su cosa siamo? Siamo su Destiny! La gente sviene quando muore, guarda. Logico, sintattico. Ok, quindi, ah, là. Spassami un po' le palle. Potremmi essere un po' più fine, poco poco. Stupide gradinata. Faccio io, lo faccio io. You aren't good for this. E qua la mi sono messo in casa. Stardo. Guarda la mi sono messo in casa, parla il tuo sei finocchio. Come si fa? Allora, devi saltare sul cartellone, con estrema agilità, che io non possiedo. Adesso, 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 adesso. Ehi. E adesso, siamo fuori dalla mappa. Guardate qua, tutte le astronavi. Aspetta. Ragazzi, siamo usciti da l'estero. Aspetta, con la scivolata mi sa pure che si faceva qua. Che saranno dieci. Aspetta, aspetta, aspetta. Giambi, giambi. Adesso cade. Adesso cade. Giambi, giambi, giambi. Ok. No. Oh. Certo. Oh. Bambamma. Porca. What the fuck? Ragazzi, siamo tornati. E Pino è scomporso improvvisamente. Pino è scomporso improvvisamente, ragazzi. Purtroppo non andavo a casa. Pazienza. Ma c'era di ishtar. Come la torre di ishtar. No. Torre di epsi. No. Ok. Se mi pigliavi. Cosa ti sei fatto? Mi sei beccato all'acqua. Headshot. What the fuck? Eh, sì, su Venera c'è un tempo di merda. Ma poi Venera è vicinissima al sole. Che spaziale, ma... Che logica è? Che c'è? Che piove e fa freddo. Usa il veicolo. No. È disabilitato. Perché è un luog di merda, quindi non tengo a usare. Fa un caldo boia. Piove adesso con 80 gradi. Sì, sì. Sono le famose piogge estive. Di. Il più aggistivo è di Venere. Di Venere. Voi non le conoscete, ma sono famosissime. Venerali. Eh, per Venerare. Venerali. Per Venerare. Venerare è tutto. Ah, la bambulissima granata. Ha avuto molto effetto. Ok, io ne ho morto. Ma mi ha spavato due rigenti. I reietti! Smetti la prima parte della concentrazione se mi chiami i reietti. Ma è uno spiletto? È uno spiletto. È uno spiletto. È un spiletto. È un spiletto. È nel tuo muco del... No, non lo so. Ah, è là in fondo. È sempre un reggio. Ci sono altri spiletti qua. Mettetela! Oh, fatemi un pugno! Eh, non avevo visto che era così vicino. basta sfiletto mira di merda 3,2,1 fai kaboom ok 6 c'è un coltetto è un posto figo di qua davvero molto figo è di qua è un po' stretto siamo circondati allora dove cazzo infatti ah no ma dai ma che chiedo di passaggio è che fai? le coordinate portano qui che cos'è? non lo so diamo l'occhio oh no rientro limitato scansiamo la la questa ah ok ragazzi mi sa che succederà si 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 oh guarda ancora là nooo il veicolo la nostra moto una confluenza di flussi di un marion in città si si capito tutto io ma tu poi non so no 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 c'è più un riparo oh cazzo oh no si si io lo cercherei anche io un riparo cioè in queste situazioni risiste? se ti arrivi addosso Dio Gesù oh Gesù oh merda ma che diavera io andrei ecco io andrei fallo ancora ma non so neanche per canti tra l'altro no no mi stanno per canti sono un po' tanti cerchiamo un riparo dove? di sopra quello è il riparo più il riparo il primo riparo io vai buon padre perchè non ho la cazzetta non ce l'ho non lo so cosa l'avevi usato a fare poi ce l'ho usato a prima la ti l'ha dato solo spettro no 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 l'ho usato a prima ok che è un po' di inizio ce l'ho panna no lo sei acceso cazzo si lo direi anch'io cazzo oh oh no vedi no vedi però gli avvicini più di uno boh strano però no non so ma perchè continuo ralleca boss ok no 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 cavolo cavolo ancora cavolo ancora è dietro di te è dietro di te è dietro di te dimmi qualcosa che non so è sempre ancora più dietro di te ok non è più dietro ma quanto ci mette a livello 10 voglio arrivarci non ci devo poter dire non ci devo poter dire sono a livello 10 e sono felice putti me ne aspettete siete stressanti ma secondo te non lo scudo nooo e adesso è morto ma secondo te dopo aver registrato questi si cioè un boss finale gigantesco un robot gigantesco finale è morto si 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 bene 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 fa piacere ma ce ne sono ancora si si qua avanti no qua in parte qua dappertutto si si dappertutto si qua da dove è lì oddio cos'è mi minatore è un minatore ho tutto rispetto per il tuo lavoro però devi morire capito è bello è la famiglia la sua statuesca non è solo uno adesso perché magari ce l'ho già prima però non l'ho cagato cosa si chiama? muratore o minatore? o minamuratore? minamuratore minamuratore sicuramente minamuratore oh 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 ti becca anche da qua ma l'ho beccato no l'ho beccato la tua ah ok è ottimo ma io la chiesto perché ricordo no ah no ok ci siamo così no non ci siamo ancora non ci siamo ancora si sta provocando qua no porca miseria non sei salito lo so che non ero salito però almeno non pensavo di ritrovare nizza no ma l'hanno fatto salire così qualche tempo magari perché sono già stati creati ah ok allora allora ha tutto senso lui lui cosa si sta guardando alla vista? eh non lo so fatemi capire fatemi capire io direi di checkinarli la cosa c'è brutto oh oh come scendere dai piani è un'estrema scusa ascensore? no 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 faccio salti di dio di dio di dio vieni fuori vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua eh cavolo però c'è l'amico che gli da il supporto morale no no che supporto morale mi spara l'amico oh non direi nel dettaglio e dal mio senso c'è l'amico è il pugno proprio pugno 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 proprio pugno che è morto no c'è un pugno pugno cavolo io direi di andare no io direi che gli tiro la granata ah ma ne sono spuntati altri ma che è? ma no ma ragazzi ma sopravvivi va bene sopravvivo però forse intende sopravvivi la notte cioè dovevi stare qua tutta la notte tutta la notte tutta la notte sopravvivi ancora guarda vedi che li crea già sui palazzi eh questa volta erano creati di là non li pavano male ma uh 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 se li creava di qua eri un po' ecco si proprio colonna colonna piena mi piace però avere colonna no devi cambiare arma va bene? grazie ce la fai? colonna comunque rendiamo un po' di colonna ecco ecco ah una granata tua porca miseria ma che granata è? una granata viola esistiva e riesci scudizza e adesso è morto e adesso no infatti è lì di caricare appena finire appena si boom perchè la sua musica è amonitata di intensità? perchè sarà l'ultima ondata almeno spero a lui mi stava su uno scherzo oddio guarda che non ti sta neanche peccando no no c'è qualcosa di più pericoloso dell'ultima ondata dove 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 sei? dove sono? ecco questo era il momento adatto vola no 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 supercarigata supercarigata qualcosa qualcosa qualco come hai fatto a farla subito? non lo so l'abbiamo passato di vivendo no che figo potenziamento sbloccato fa fine per la vita si nella vita si è la fine tanto hai fatto il nuovo livello? no no scusate non so muore perchè perchè non so muore 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 venga adesso adesso facciamo speriamo il pavimento e poi possiamo dobbiamo ancora fare potenziamento comunque si ok quando ne ammazziamo facciamo potenziamento si ecco quando ne ho finito di sclerare perchè ci sono morti tutti basta finito fine? vi prego ditemi di si fine di ogni cosa si la musica questa è la musica della figlia forse qualcuno ancora ha passato così lo possa ci stava no no se se è quello che penso no dimmi che no ok era un filmato no era un filmato no mio dio stavo iniziando a sudare ottima prova dove l'ha trovato chi è? sei qui oddio chi è? non abbiamo molto tempo ha conosciuto? chi sei? no perchè ci stai osservando? non ho nemmeno il tempo di spiegarvi ah si l'avevo visto una volta l'avevo solo visto una volta si lo so si cosa? sto parlando no sei uno spettro a dire il film potenti guardiani sono periti ma zucca la ma zucca la ce l'hai fatta sai perchè? perchè posso leggendarmi quanto vuol tu lo sai ma io ho il segreto il più segreto del mondo cosa ha sposto il mio spettro? dentro e non ti permetti? che ci hai portato qui? loro ci hanno portato qui loro i robot adesso tipo arriva dio arriva il robot dio persona così malvagi da sbabbare il male stesso con lui però l'obbio che ci sguardo viene così no non possiedo la luce ma sento che dal nostro incontro nascerà qualcosa di epico e gli schiaccia la pancia e gli schiaccia la pancia logico ma hai sentito parlare del giardino nero? cosa si può parlare? è un giardino un po' morto è là dove sono nate queste macchine che si trova la più grande minaccia quindi ci andiamo ci andiamo non c'è idea trovato il giardino nero strappategli il cuore solo allora il viaggiatore potrà correre beh puoi aiutarci a trovarlo? ma tu parli dallo è la sua voce quella oddio ma io devo parlare solo lo scuro lo scuro è un po' timido sai ah si adesso adesso è tutto complesso abitatore di limbo tra la luce e l'oscurità un'alleanza può sempre tornare utile l'umino anche se con le persone sbagliate troppo tardi quanti sono? resta lì spegni i motori e non farli tutta oddio oh cosa faccio? lo voglio fare anch'io si anche lo voglio fare allora come li troviamo lì sonni? vivono ai margini più remoti dell'oscurità che bello l'ultimo luogo toccato da luce ma non potremmo starceli qui con i robot che tevi? no no lumino lumino smettila lumino si è arrabbiato lo spettro ok ma da quando il mio personaggio parla c'è? eh da adesso in poi va vero? tu da adesso in poi parli eh 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 qui ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un commento mettete mi piace iscrivetevi e noi ci vediamo un prossimo video su destiny quindi bella ragazzi cos'è? oddio enemy oh oh oddio oh 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 la mia casa sta bruciando puoi aiutarmi? oh oh ah oh oh calmmc calmmc he